A lezione dal maestro dei maestri, esponente della diciannovesima generazione dello stile Chen. Una grande emozione per gli allievi dell'Italia, Ponze, Team, Vicenza, poter incontrare il maestro Chen Chonghua, volato dal Canada dove vive in segna fino alla palestra dama di Valdagno. E' rappresentante nel mondo del Tai Chi Chuan stile Chen metodo pratico Hong, arte marziale cinese che deriva dal Kung Fu e che sviluppa le applicazioni nella difesa personale. Su invito dell'istruttore dell'Accademia di Valdagno Massimo Neresini e del maestro e direttore tecnico Giuseppe Bon, Chen Chonghua, ha tenuto un workshop rivolto ad allievi di tutte le età. E' stata l'occasione per insaldare un rapporto avviato alcuni anni fa con i referenti vicentini della disciplina, ma anche per incontrare l'assessore allo sport di Valdagno Alessandro Greiner. E' il direttore del messile sportivissimo Luigi Borgo, che nel novembre 2009 ha dedicato una copertina al maestro Chen Chonghua, targhe e doni non solo per l'ospite ma anche per l'istruttore Neresini, a ringraziamento dell'impegno organizzativo. Allievi è a bocca aperta nel vedere la facilità con cui il maestro stende gli avversari e nell'ascoltare gli insegnamenti sui principi base del Tai Chi, ad esempio lo Ying e lo Yang. Ying e Yang rappresentano gli osposti, quindi tutto nella nostra esperienza e nell'universo si basa sull'esistenza di opposti. Il fatto che noi camminiamo, ci muoviamo, presuppone che ci sia un pavimento, un terreno che sia solido, che ci possa supportare, quindi l'opposto. Il training di Tai Chi fondamentalmente cerca di far insegnare a livello fisico come usare questi due principi. Anche nel Vicentino sta aumentando l'interesse verso queste ed altre discipline orientali che sanno unire il benessere fisico a quello psicologico. Ma cosa cerca chi si avvicina al Tai Chi? Innanzitutto l'equilibrio tra la mente e il corpo e poi cercano proprio quella serenità e quell'allineamento strutturale che viene a mancare tutti i giorni. Eleganza, forza fisica, equilibrio, fattori che contraddistinguono le figure eseguite dal maestro, insegnamenti che gli allievi valdanesi non dimenticheranno.